Il video di striscia alla notizia finisce in procura. Nel mirino Rori Oliviero, consigliere comunale di Ercolano, scoperto dalla trasmissione televisivamente, percepiva una mazzetta da una donna promettendole un posto di lavoro. Colloqui entro febbraio e assunzione sicura a marzo, dice il politico, in tutto per 10.000 euro pagamento anticipato. Ieri si è riunito il consiglio comunale di Ercolano, durante il quale il consigliere, seppur non riconoscendosi nelle immagini del TG satirico di Canale 5, ha deciso di rimettere le sue dimissioni. Davanti ai colleghi in aula ha spiegato i motivi del suo abbandono, poi fuori dall'aula Oliviero parla di un paradosso e poi invoca il silenzio stampa. Ma come hanno fatto a collegare quel soggetto a Medice sfogandosi? Poi annuncia azioni legali contro la trasmissione. Ma nel frattempo il coro di reazioni al palazzo di città è unanime. Il sindaco Ciro Buonaiuto dice che è roba da vigliacchi lucrare sui disagi della povera gente. Rincarano la dose i verdi che con il consigliere regionale Borrelli e il gruppo del Sole che ride di Ercolano chiedono le dimissioni immediate del consigliere. Sul fronte giudiziario invece Massimo Riservo. La Guardia di Finanza sta indagando e già da tempo. Ora però c'è un nuovo filone da seguire. Una nuova pagina di mala politica che finisce sulla scrivania dei magistrati che dovranno accertare responsabilità e ruoli dei singoli amministratori.